Oggi noi faremo lo sport più conosciuto e praticato al mondo! Il football! Football! Mi piace il football! Devo! No, ragazzi, io ho detto football! Football! Mi piace il football! Il giocatore arriva sulla linea del traguardo e poi... No! Noi non giocheremo a football! Eh, sono veramente confuso, Robin. Giochiamo a football! Detto anche calcio! Il calcio non interessa a nessuno! È l'evento atletico più noioso di tutti! Le persone colpiscono una palla e fingono di farsi male! Non voglio colpire una palla qualsiasi! Preferisco colpire lui! Hai capito? Perfettamente bella! In tutto il mondo il football accende le passioni dell'anima! Riesce ad unire una nazione o a distruggerla! Ma la cosa più importante è che è una metafora del miracolo della vita! Parliamo ancora di calcio! Smettila di chiamarlo così! È football! Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di sinistro nello sport! Come può la gente arrabbiarsi per una palla? Sembra assurdo che un gioco talmente noioso possa ispirare emozioni così intense, Robin! E quando lui fa il gioco dell'oca e dell'anatra? Anatra! Anatra! Sei loca? Evviva! Adesso sono io loca! Loca! Arrivo! Nessuno sfugge a loca! Il football è un bellissimo gioco! Ripetetelo e fatelo vivere nei vostri cuori! Football! Football? No! Football! Football! Più passione! Football! Inizia a sembrare internazionale! Colpito! Sono divertente! Grande energia! Scendiamo in campo! Sembriamo dei veri atleti professionisti! Ho messo anche i parastinchi, sì! Colpisci mi forte! Non è una buona idea! Forza! Non sentirò niente! È un'armatura per gli stinchi! Ok! Che male il mio stinco! L'hai spezzato! Ora voglio provare anch'io se funzionano! Non mi proteggono per niente! È assurdo! Oh! Anche voi state giocando a colpirlo? Forza! Ok! Siete scatenati ragazzi! Vi spiego le regole! Poiché nessuno gioca a calcio nella nostra nazione ci hanno spedito questa magnifica palla dall'altra metà del mondo! Questo sì che è un pallone davvero bellissimo! Una raccolta di pentagoni ed esagoni che formano una sfera perfetta! Realizzata grazie alla scienza! Elegante! È vero! Il football è la parte più elegante dell'attrezzatura di tutti gli sport! Allora, è facile da imparare! Dovete fare entrare la palla nella porta! Nessun problema! Sferzata! Due punti! Nessun punto! Non si possono usare le mani! Che cosa? Queste regole sono davvero super strane! Ma com'è possibile manovrare una palla senza poter usare le mani? Foot ball! Oh! Ragazzi! Dobbiamo usare i piedi! Ma io non ho i piedi! Sì, invece! Oh sì! L'avevo dimenticato! Allora, state attenti che vi mostro come bisogna calciare il pallone! Ah! Ecco! Ho segnato un gol nello stile corretto del football! Ora festeggiamo dicendo gol il più a lungo possibile! Gol! Che cos'è? Baseball? Goal! 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 Davvero inaccettabile! Goal! Ancora più lungo! Goal! È questo che intendevo! E adesso calciamo questa palla! Perchè? Ecco mi hai fatto farmi male! Non mi sento più il braccio! Non mi sento più lungo! Grazie a tutti